La vita è un sogno, bello, bellissimo, vorrei essere eterna, vorrei non finire mai, essere sempre così, poter fare mille cose, sarebbe una cosa meravigliosa. I sogni aiutano a vivere meglio, secondo lei? Ma io sono molto realista, quindi faccio fatica, preferisco pensare che la vita è proprio un bel sogno e quando finirà pazienza, come quando ci si sveglia al mattino, che a volte mi capita di sognare di avere una bellissima cosa sotto mano così, poi mi sveglio e non c'è, dico che peccato. Vorrei dire che è importante vivere la propria vita come uno veramente vuole, con coraggio, è la cosa più bella che si possa fare e mando un grande bacio a tutti.